Ancora una volta il Vallo di Diano preda dei malviventi. La notte scorsa a Sala Consilina dei ladri hanno rubato un'auto nella frazione di Trinità. Si tratta di una Fiat Panda parcheggiata in strada e portata via ad alcuni malviventi, sulle cui tracce ci sono ora i carabinieri della locale stazione guidati dal tenente Martino Galgano. I proprietari, una volta accortisi del furto, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine che stanno procedendo a rintracciare la vettura e individuare i responsabili del reato. Per i militari dell'arma Salesi una notte turbolenta, quella appena trascorsa, in quanto sono dovuti intervenire anche a Padula. In un'abitazione, infatti, alcuni malviventi si sono resi responsabili di un tentato furto in casa. Al momento è ancora da quantificare l'eventuale bottino che i sono riusciti a portare via, ma i carabinieri stanno svolgendo tutte le attività propedeutiche per identificare i malviventi che si sono introdotti nell'abitazione padulese nel cuore della notte. In entrambi i casi, ricerche a 360 gradi che si spera possano presto consegnare alla giustizia gli autori dei reati di questa notte.